Un saluto e ringraziamento a coloro che hanno aderito all'iniziativa, a coloro che si sono prodigati per la buona realizzazione. In primo luogo al Presidente del Consiglio Provinciale, Dottor Luigi Marconi, che è qui presente, che ha voluto essere presente a questa manifestazione. Poi al Dirigente Scolastico, Dottor Struppiani, inoltre a coloro che hanno collaborato particolarmente a questa manifestazione, il Professor Annivale Vaudo Santarelli e al Generale Massimo Coltrinari, che hanno partecipato a preparare in questa grande iniziativa. Io sono Monti, innanzitutto, e poi seguo i ringraziamenti di salute agli insegnanti che hanno preparato i ragazzi per la realizzazione dei loro scuoti, che poi andremo a... Grazie.